Per quanto riguarda le province, abbiamo anche qui un dato abbastanza a luce d'ombre, nel senso che la provincia di Bergamo è una provincia che oggi arriva a 7458 con una crescita di 386, che mentre il dato complessivo vede una crescita molto significativa rispetto a ieri, il dato di Bergamo è di fatto in linea con quello di ieri, perché ieri era a più 344, oggi è a più 386, quindi quasi che su quell'area ci sia stata non più una crescita esponenziale, ma un rallentamento nella crescita. Lo stesso in qualche modo il dato di Brescia, siamo a 6.931, che è più 334, ieri era 300, quindi anche qui un dato che sembra non crescere neanche con la stessa percentuale di crescita del dato complessivo. Como 762 più 56, quindi più basso rispetto a ieri, Cremona 3370 più 214, dice ecco questo è un dato invece molto più alto rispetto a quello di ieri, l'Eco 1159 più 83, l'Odi 1968 più 84, anche se la zona di Codogno continua a essere, poi lo vedrete, i tuoi 10 casi, quindi siamo basati a 0,010, 0 ieri, 0 il giorno prima, 11 oggi, quindi voglio dire ormai lì possiamo dire che si è assolutamente fermata la diffusione del virus, Monzebrianza siamo a 1750 più 163, il dato molto forte è quello di Milano dove siamo a 6.922 più 848, quindi è un dato che è più del doppio di quello di ieri. Devo dirvi che quando ho visto questo dato così grosso sulla città di Milano, oggi non ho fatto, oggi ci siamo concentrati sul lavoro sul territorio, quindi non ho fatto la mia solita conference call con tutte le strutture ospedaliere, ho però chiamato subito i direttori degli ospedali di Milano, i quali non hanno però evidenziato una crescita così importante di accessi ai pronto soccorso, una pressione così addirittura più del doppio nel pronto soccorso, ma è addirittura stabile rispetto ai giorni precedenti, quindi qui potrebbero essere molti più tamponi che sono stati fatti, ma non ricoveri aumentati. Mantua 1250 più 74, Pavia 1685 più 107, Sondio 325 più 41, Varese 502 più 30.